La prima cosa che mi piacerebbe chiedere a entrambi è penso che nella realizzazione di un film di questo genere ci si trovi inevitabilmente in qualche modo a fare un bilancio, a confrontarsi con un percorso di vita così importante. Qual è stata la vostra sensazione interna ovviamente per quanto riguarda la signora Caselli invece per quanto riguarda lei, visto dall'esterno, di questo riassunto? In quali parole secondo voi si può riassumere questa esperienza così intensa e straordinaria? Personalmente ritengo che ci sia in questo film molta sincerità. Non c'era, poi adesso Renato racconterà meglio, ma io sono stata proprio libera di raccontare in totale libertà parte della mia vita vissuta o aneddoti ma con molta sincerità e dovuta anche al fatto che Renato era lì presente c'era tutto lo studio, praticamente eravamo nel nostro studio principalmente ma loro c'erano ma non c'erano nel senso che io ho raccontato veramente liberamente tutto quello che mi veniva in mente cioè cercando nella memoria episodi e racconti legati alla mia vita vissuta poi il grosso lavoro l'hanno fatto loro poi successivamente per montare tutto questo perché in realtà avevamo girato di tre ore, forse anche di più Ma anche di più di tre ore, molto più di tre ore Quindi il lavoro lì di togliere, insomma, di andare in sottrazione è sempre un lavoro anche un po' difficile però diciamo che questo è stato, per me è stata un'esperienza veramente notevole per me e poi la cosa bella appunto mi sono trovata in totale libertà questo l'avevo capito subito dal primo incontro che facemmo con Renato prima ancora che si dovesse decidere, insomma, si doveva decidere se fare o non fare questo documentario e mi sono trovata come famiglia, come se lui fosse mio fratello ecco, una persona per la quale provo una grande stima e così mi sono lasciata andare praticamente, senza inibizioni, ecco Ma intanto sono onoratissimo di queste parole di Caterina La invidio molto in effetti, insomma Ma veramente mi sento molto fortunato oggi e quindi sono veramente onorato La domanda che mi hai fatto è un po' ha una risposta molto semplice cioè è come fare un ritratto, diciamo e quindi quando fai un ritratto come ci insegnano i maestri della pittura quello che devi cercare di raccogliere è un'unicità, no? Nello sguardo, nel profilo, in quei volti, no? Bellissimo, dei ritratti di Rinascimento per esempio è proprio quello che ti arriva addosso, ti colpisce e ti parla anche di te stesso e quindi quello che ho cercato di fare è un ritratto il più efficace possibile nel colpire le persone ho cercato di arrivare usando un tasto molto forte e molto importante che è la vitalità e la sincerità di Caterina usare quel tasto per costruire un ritratto che parlasse a tutti raccontando questa esperienza che è straordinaria e unica è un percorso incredibile che è quello della storia di Caterina però che cercasse di parlare a tutti quanti e cercare di fare un racconto il più universale possibile Una cosa che mi ha colpito moltissimo del film e del suo racconto in un'esperienza così straordinaria e che però anche ha comportato insomma delle scelte probabilmente non facili nel corso della sua vita e anche attraverso il confronto con le persone che hanno fatto la storia della cultura di questo paese che vediamo nel film al suo fianco lei non mostra mai la benché minima forma di nostalgia nemmeno una nostalgia piacevole lei mi sembra sempre rivolta verso avanti Sì, io da sempre sono stata così cioè io sono una persona curiosa e mi pongo sempre quando sono con delle persone imparo sempre qualcosa e nell'imperare qualcosa sono umile ovviamente ma non sono umile perché voglio esserlo ma perché cerco di catturare quello che c'è che mi sta suggerendo magari la persona che è di fronte a me e c'è un, come dire, c'è un rapporto in questo senso c'è un rapporto anche alla pari nel senso che di fronte alla persona umile è come ti poni tu cioè sei te stesso io cerco di esserlo nello stesso modo e questo mi piace scoprire l'altro sempre e quindi sono aperta in tutti i sensi da questo punto di vista Grazie a tutti